E dire che avevo smesso quelle stampanti piccole, ma di certo non postevo lasciarmi l'occasione di provare questa nuova Elegu Neptune 3 Plus. Stampante che dovrebbe essere veramente una bomba per quanto riguarda il suo rapporto qualità-prezzo. Ma come sempre, prima di andare al video, sigla! Credo veramente un sacco di tempo che non aprivamo una stampante 3D nuova, soprattutto con anche un po' di hype, perché come vi dicevo ho grandi aspettative per questa macchina. Quindi andiamo ad aprire questa gigantesca macchina, togliamo questo, ok, boia! Guardate quanto è grande! Allora, innanzitutto vediamo un po' cosa c'è qui sotto, ok, qui troviamo un fogliettino d'uso e anche il suo manualetto, cavo di alimentazione, IEC classico. Poi questo è il portafilamento, si può mettere sia da una parte che dall'altra, oppure addirittura farlo diventare doppio, cosa ne so. Questo è un supporto palesemente magnetico, probabilmente per il display che dopo andremo a vedere. E poi qui una mega busta con un sacco di roba, sensori di filamento, spatola, tronchesine, attrezzi vari, cavetto, filamento, SD e degli altri accessorietti. Adesso liberiamo dalle protezioni la bestia, queste qui sono delle barre, servono per stabilizzare l'asse Z, perché comunque come potete vedere è veramente molto molto alto. Poi possiamo, sì, forse possiamo togliere direttamente questo. Lo mettiamo un attimino da parte per farvi vedere cosa c'è qui sotto. Urca! Come potete vedere è gigantesco, ma soprattutto questo qui è un piano già di per conto suo magnetico, di tipo texured pay, quindi lascerà una trama sul primo strato. Comunque solo da un lato. Qui abbiamo tutte le viti a vista che tengono il tutto insieme. Come vi dicevo, questa stampante è dotata di un bellissimo display. Come potete vedere c'ha già anche il suo connettore RJ11, concettualmente sostituibile per fortuna. Classico da cornita del telefono. Quindi poi andremo a vedere comunque come funziona, come effettivamente si va a comportare. E soprattutto se il software è completo, perché uno dei più grossi problemi di questi display è che sì, sono belli, sono fighi, ma a volte privi o comunque scarni di funzioni. Andiamo a tirare fuori tutta sta roba qui. Qui bene che abbiamo tutte le protezioni che tengono fermo il piatto. E adesso come la tiro fuori? Non voglio distruggere nulla. Allora, sembra pesante. E lo è. È veramente mastodontica, non finirò più di dirlo. Allora, vediamo un po' se ci hanno un consiglio su come montarla al meglio. Prima ancora di prendere l'asse verticale e piazzarlo qui sopra, muniamoci di tutte le viti necessarie. A noi conciuttualmente ci serviranno queste quattro viti M5 da 45 mm, che comunque sono tutte ben organizzate in sacchettini. E questo è sicuramente la parte più noiosa del montaggio. Andiamo a posizionare l'asse così. E poi andiamo a mettere le viti qui sotto. Io per facilitarmi un pochino il lavoro, ci lavoro direttamente spostando la stampante di qui e poi avvito direttamente qui sotto. Comunque già anche soltanto avendo avvitato queste quattro viti, l'asse è abbastanza stabile, nonostante enorme. Giriamo il tutto e andiamo ad installare il supporto del display. Andiamo ad avvitare le tre viti. I filetti sono direttamente nell'estrusione in alluminio. Dopodiché in modo super super semplice colleghiamo il connettore qui sotto. Lui ci rimarrà così, attaccato magneticamente. Va bene così. Adesso prendiamo le viti M4 da 18 mm e andiamo ad installare il porta bobine. Le T-NAT sono già inserite dentro all'estrusione, quindi a noi tocca semplicemente avvitarle. Questo lo posizioniamo in modo tale che la bobina più o meno starà centrale. Dopodiché possiamo andare a installare il suo sensore di filamento. C'ha già la sua vitina specifica e lo andremo a posizionare. Ovviamente se si muove un pochino è normale. Ovviamente qui colleghiamo il connettore. Dopodiché andiamo a prendere questa clip che ci servirà da guida per il tutto. Per il tutto andiamo a collegare questo cavo che non è altro che l'unico connettore che va a collegarsi qui alla testa di stampa. Qui dentro c'è tutto concettualmente, direct drive, ma di questo non andremo a riparare più tardi. Quindi lo andiamo ad inserire. Qui entra a scatto, molto 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 comodo. E poi lo andiamo a posizionare qui dentro, bello solido. Dopodiché possiamo andare a collegare il motore dell'asse X e anche il suo relativo endstop. Poi andiamo a prendere questa clip, ci andiamo ad inserire dentro il nostro cavo e poi lo andiamo ad avvitare qui al suo supporto. Così almeno qui i cavi saranno abbastanza organizzati. Ultimo, ma non per ordine di importanza, dobbiamo andare a installare queste cane da pesca. Che ovviamente serviranno, come vi dicevo prima, a stabilizzare tutta la struttura. Comunque veramente molto belli i colori che hanno scelto per questa macchina. Prima andiamo a mettere le viti di sopra. Ovviamente non stringiamole troppo, tutti i serraggi li facciamo alla fine. E poi questo qui più in basso, forse sarà meglio il contrario. Ok, uno è stato messo, adesso mettiamo quello dall'altra parte. Ah, ovviamente mentre fate quest'operazione controllate che non state andando a tirare la struttura da qualche parte, ma il tutto deve essere stabile. Cioè queste barre non devono dare una flessione ulteriore al resto della struttura, quindi fateci attenzione. Ok, mi sembra superfluo ora farvi vedere tutti i dettagli della connessione dei connettori, anche perché sono veramente super semplici, sono etichettati, diciamo non ci si può sbagliare. Quindi finisco di fare tutta questa roba qui, la collego, la provo e ci rivediamo tra poco per le considerazioni finali. Mi impappinerò 28.000 volte. Beh, dopo averla provata per qualche giorno, vediamo di tirare un po' le somme. Ma come sempre partiamo prima da qualche caratteristica tecnica. È una macchina dotata di un volume di stampa di 320x320x400 mm di altezza. Il piano è ovviamente riscaldato fino a 100 gradi centigradi, ma fate attenzione che di picco solo lui consuma 420 watt. Comunque è provvisto di un piano magnetico flessibile in acciaio, rivestito a sua volta da uno strato in pay texturizzato, che quindi lascia sul primo strato una bella superficie rugosa, ottima per mascherare le imperfezioni dello stesso. La movimentazione lineare è invece garantita da tradizionali guide V-slot con pulegge cuscinettate. A me onestamente sono arrivate regolate perfettamente, ma mi raccomando, dateci un occhio onde evitare problematiche come ad esempio l'usura eccessiva oppure vincolo lineare non garantito. Per il resto, oltre alle classiche cinghie per gli assi X e Y, troviamo per l'asse Z due motori sincronizzati da una cinghia chiusa in cima alla struttura. Tutti i motori degli assi, estrusore incluso, sono equipaggiati con driver silenziosi di buona qualità. Nel complesso la stampana rimane decisamente silenziosa anche a ventole accese. E questa è un'ottima cosa, visto e considerato il fatto che in molte macchine che ho provato in precedenza, e non solo quelle economiche, abbiamo sì gli stepper driver silenziosi, ma se poi mi mettete delle ventole che sembrano delle turbine di aereo... Beh, oltretutto, non appena la macchina avrà finito di stampare, sarà abbastanza silenziosa perché andrà a spegnere praticamente tutti i sistemi di ventilazione. Il sistema di estrusione è direct e dual drive, di veramente un'ottima qualità. E lo tendo può arrivare ad una temperatura di 260 gradi centigradi massimi, nonostante sia dotato di una gola in lega di titanio. Anche la ventilazione del pezzo funziona perfettamente. All'interno del carrello, inoltre, sarà presente il sensore di autolivellamento di tipo induttivo, quindi non va a toccare direttamente il piano con una sonda fisica, come ad esempio il Biele Touch. Però funziona veramente molto molto bene. A tal proposito, il livellamento del piano viene effettuato automaticamente su una griglia di 49 punti, quindi il classico 7x7. E ci verranno visualizzati a display i dati dei singoli, per regolarli al meglio anche grazie ai 6 pomelli posti sul carrello. Mai visto una stampante con una cosa del genere. Come vi accennavo, la macchina è dotata anche di un display touchscreen da 4,3 pollici con supporto magnetico e relativo cavo elastico. Il software che fa girare la baracca è veramente ben fatto. Diciamo che ha tutte le funzioni per le normali operazioni della macchina, però vi devo dire che non è completo come alcuni che abbiamo visto qui sul canale. Però comunque è più che sufficiente per la stragrande maggioranza di noi. Se poi farete lo slicing con un programma compatibile come Elego Cura, di cui dopo ne andremo a riparlare meglio, vi visualizzerà anche un'anteprima di stampa direttamente sul display. Peccato che per vedere la schermo dobbiamo far partire per forza la stampa. Onestamente avrei preferito vederla ad esempio durante la conferma dell'inizio operazioni e non dopo. Sembra invece una cavolata, ma ho apprezzato moltissimo la presenza della striscia LED posta sulla parte superiore, che va ad illuminare il piano di lavoro. Mi è capitato spesso di andare a vedere come stesse andando la stampa, ma tenendola in un'altra stanza ovviamente non lascio la luce accesa sempre. Quindi basta andare lì, premere sul pulsante sul display e attivare o disattivare l'illuminazione per capire l'andamento della stessa. Piccolezza che però ho utilizzato e apprezzato molto nel quotidiano. Quindi, fatte tutte queste premesse, ma insunto, come va? Quando all'inizio del disinscatolamento dicevo che potrebbe essere un nuovo Best Buy di fine 2022 barra inizio 2023, beh, adesso ve lo posso assolutamente confermare. Tutti i test che ho fatto sono stati sliceati direttamente da Elego Cura, che non sarebbe altro che una versione per l'appunto di Cura brandizzata da Elego. Contenente i profili prefatti per le loro stampanti. Potete tranquillamente esportare i profili da lì e importarli nella versione classica di Cura, senza particolari problemi. Ricordate anche di reinstallare i plugin del TFT se volete utilizzare le anteprime di stampa sul display della macchina. Perché ovviamente l'anteprima viene generata dallo slicer, che poi fornisce una specie di immagine al display. Cioè, non è il display della stampante a leggere il G-code per poi andare a creare un rendering. Comunque, non sono un grande amante degli slicer proprietari, ma perché si vuole approcciare senza troppe rotture di scatole. Questa via non è così malvagia. Detto ciò, la qualità della stampa è veramente degna di nota. I dettagli vengono riprodotti molto bene, i driver non lasciano particolari imperfezioni sulle superfici e il tutto sembra essere molto affidabile. Non mi ha mai dato neanche un singolo problema. Il piano di stampa così texturizzato è davvero comodo da utilizzare. Tiene ben aderente il primo layer quando serve e si stacca bene a stampa finita. Inoltre, molto piacevole e bella la finitura che lascia sulle superfici. Ho avuto modo di provare sia il sensore di fine filamento, sia la ripresa della stampa dopo un blackout. Ed entrambe le funzioni hanno fatto perfettamente il loro lavoro. Inoltre, nonostante la grandezza della macchina, la struttura rimane veramente molto molto solida. Elego ha fatto veramente un lavorone su questa macchina. Funziona decisamente molto bene, soprattutto visto il prezzo a cui si trova. Circa 350 dollari sul sito ufficiale, ma ovviamente in base alla disponibilità e store vari, il prezzo può variare. Per il resto, come vi dicevo, veramente ottima stampante 3D, che sento di consigliarla ai molti. A patto di avere lo spazio dove metterla, è abbastanza ingombrante. E dire che avevo smesso quelle stampanti piccole. Quindi niente ragazzi, io penso di avervi detto tutto. Mi raccomando se aveste qualsiasi domanda, dubbio, perplessità o qualsiasi altra cosa, mi raccomando che avete qui sotto nei commenti. E niente, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando se così fosse, lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate. Mi fa sempre un sacco piacere. E ci rivediamo ad un prossimo video, che potrebbe essere qualcosa di relativo ad un'altra macchina Elego. Magari una comparazione. Vediamo!